E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterset Crypto io sono Emiliano e anche questa sera anche di sabato andiamo insieme a dare un rapido sguardo a quelle che sono le chart a quelli che sono i movimenti del prezzo di bitcoin delle principali criptovalute andremo insieme appunto a vedere quello che sta accadendo cosa è successo una chiusura di ieri molto convincente e oggi è una bella candela rossa ma di quelle che ci piacciono lo approfondiremo tra pochissimo come sempre prima di partire il mio invito è uno quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti deputaste utili e interessanti per la vostra analisi e ricordatevi se siete nuovi di premere clic su iscriviti e clicca anche sulla campanellina perché è un mercato che si evolve rapidamente e se tanti video magari su youtube possono essere visti con calma questi se vi interessa il settore delle cripto direi che vanno visti subito perché già dopo qualche ora perdono di utilità ok mi raccomando partiamo prima però voglio un attimino chiarire una cosa perché mi avete scritto in tanti in privato anche per i codici che trovate qui sotto di premix bt che vi invito ad andare a vedere oltre agli altri anche per i futures di bingbone eccetera per inserire il codice questa è la vostra schermata se l'allargate vi viene quella schermo intero è solo perché la tengo un po' più ridimensionata per farvi il video basta premere su margin e poi qua account vi viene appunto inserito quello che è il vostro codice promozionale qua voi mettete dentro after side 50 o after side 25 io qua ve li ho fatti appunto solo per test su un account di test appunto vedete qua promozione after side 50 al 50% o after side 25 potete usarli tutti e due ok quindi non c'è alcun vincolo io ve l'ho fatto vedere appunto perché alcuni non sapevano dove poterli inserire spero che sia più chiaro partiamo partiamo direttamente da btc perché bitcoin ieri come dicevo ha chiuso molto bene e oggi è andato a trovare un supporto perfetto sulla su questa siamo semiretta questo livello chiave che stavamo osservando appunto perché era un livello importante perché aveva fatto da resistenza qui lo vedete bene aveva fatto da supporto qui e tenerlo potrebbe darci la forza per tornare nelle condizioni di attaccare questa zona ok ci avevamo riprovato qui subito dopo il dump avevamo provato a fare un rimbalzo qui poi non ce l'avevamo fatta eravamo venuti giù ok con tutto il fad tutto quello che poteva starci dietro se andiamo a vedere a livello orario che cosa è accaduto lo vedete appunto abbiamo recuperato questo scusate abbiamo recuperato questo livello e poi siamo andati in una sorta di lateralizzazione abbastanza bullici direi perché in realtà nella lateralizzazione anche abbastanza convinta di mantenimento di questi livelli con supporto appunto su questo sui 47.5 47.4 fondamentalmente ora ci troviamo in zona 47.8 vedremo un po' come si evolverà sapete che siamo in zona weekend quindi i volumi tendono ad essere un po' più bassi ce ne siamo accorti tranne qualche candela dove troviamo qualche spike però tendenzialmente appunto bitcoin sta sostando e sta respirando cosa che è fondamentale fondamentale perché perché innanzitutto stiamo andando a recuperare sulla market cap perché sul daily stiamo facendo un buon più 1% in prosecuzione di questa ottima leg up che abbiamo avuto sulla total market cap e ci riportiamo esattamente vicini a questi top di 2.23 siamo 2.15 più stiamo lontano di 2 trillions meglio è e se riusciamo a recuperare i 2.43 ci riaffacciamo agli all time high ok quindi direi no bene di più da quel punto di vista lì e in più stiamo dando spazio a quelle che sono le alz ok? altcoin infatti che vanno a recuperare e lo vediamo dalla dominance dominance che sta dando indietro in maniera anche abbastanza marcata oggi fa un meno 1.72 stiamo dando indietro 0.73% portandoci a un 41.88 e direi che ce ne stiamo accorgendo da ethereum che ha avuto un'altra continuazione e vedete come stiamo andando a marcare questa zona qua come bottom lo stiamo vedendo su dot che ha avuto continuazione dopo la rottura di questa trend line appunto ribassista l'abbiamo rotta e stiamo proseguendo l'unico warning che io voglio darvi ok perché sapete che non sono né permabull né permaberra ma voglio cercare un attimo di farvi comprendere è che comunque sia stiamo salendo in maniera abbastanza convinta quindi prima di fare gli all in aspettiamoci magari un ritesto delle medie mobili qui abbiamo a 12.26 che stanno crociando a rialzo quindi in realtà è un ottimo segnale bullish però tendenzialmente questa media tendrà a fare questo quindi possiamo appoggiarci eventualmente su uno scarico anche sui 31 31.6 ok prima di poter proseguire quindi non andate a ragionare adesso all in poi ovviamente ragazzi nulla ci vieta nel settore delle criptovalute che facciamo questo ok però dobbiamo sempre contestualizzare le probabilità di accadimento di un evento ok quindi mi raccomando sempre il focus deve essere quello ok l'abbiamo visto un'ottima un'ottima conformazione su questa voglio un attimo fermarmi che è quella di luna perché a me questa quando vedo questa roba qua ragazzi a me mi piace un sacco ok è proprio è proprio pazzesca è bellissima da vedere perché perché abbiamo questi v shape ok fondamentalmente con degli affondi anche abbastanza importanti perché qui vedete siamo calati dal top un bel 20% siamo andati a recuperarle quando andiamo a fare questi double top ok se riusciamo a romperli solitamente acceleriamo e soprattutto per come è configurato a luna se il mercato chiaramente dovesse tenere quindi abbiamo dump particolari di bitcoin ragazzi questo non può essere un ottimo trade con uno stop loss comunque abbastanza stretto vi direi sotto i 37 ok per non andare a invalidare la struttura quindi comunque se volete stare conservativi sotto i 32 però siamo un po' larghi se volete fare una cosa abbastanza stretta sotto i 37 possiamo giocarci l'altimei rottura dell'altimei 45 poter fare una leg up anche ai 50 però ovvio che non sono i consigli trading e finanziari ma sono dei set up e quando si verificano su nomi caldi perché luna è un nome caldo è un nome che ha dato tanto ha dato indietro anche tanto perché qua ha dato indietro un 50% ma poi vi fanno questi recuperi e trovano appunto continuazione beh questi sono dei pattern che possono essere molto utili ok da sfruttare long quindi diamoci un occhio stiamoci attenti perché può essere un nome importante in realtà non voglio farvi vedere tantissime altre alt ne guardiamo magari qualcuna assieme perché me le sono segnate però non voglio andare troppo oltre perché il concetto che stiamo avendo è comunque tutto un recupero anche su solana abbiamo avuto un trend discendente sembrerebbe aver confermato il bottom poi ovvio che in questa fase ragazzi tutte le altre stanno andando a fare bene il target per solana sono 172 era già il mio target ok andate a vedere il video di ieri ne avevo parlato perché andavamo a gestire questi ai qui che c'erano stati vediamo perché anche solana non è che ha molto sopra quindi se riesce a mantenersi in mercato solana può tornare tranquillamente a ritestare i top e lì si genera un'altra situazione interessante e i nomi che hanno dato indietro di più stanno andando a recuperare anche più velocemente voglio farvi l'esempio di due coin un po' piccoline una è MOVR che sapete che stavo osservando stessa conformazione guardate qui che bella che bel bottom ok che può aver segnato MOVR perché vedete come il prezzo è stato sostenuto molto bene sui 300 dollari ora si trova sui 355 e se il mercato dovesse continuare secondo me possiamo tranquillamente tornareci 400 e a quel punto non abbiamo anche lì nulla ok abbiamo solamente poi gli all time high e stessa cosa volevo farvela vedere in chiusura su quella che è Atlas perché Atlas è un altro nome che aveva fatto un pump esagerato tutto l'hype che si era creato da FTX eccetera ha avuto poi una correzione veramente veramente marcata perché guardate qui dal suo top che abbiamo raggiunto siamo andati a chiudere con un meno 73% questo per farvi capire come bisogna stare estremamente attenti quando si entra sui nomi sui pali verticali ok perché poi succede questo e però è andato a fare un'ottima leg up sia ieri che oggi in due giorni questo nome vi ha recuperato un 50 quasi un 70% ed è molto interessante perché se riesce a invertire Atlas e soprattutto su Solana si riesce a recuperare un po' di fiducia io mi aspetto un riapprodo intanto in queste zone di qua dei 14 15 e poi non c'è molto ok si potrebbe accelerare di nuovo con con forza e stiamo attenti appunto a tutta questa cosa di gamification perché sapete che è un settore che in questo momento sta tirando molto e potremmo insomma avere avere delle sorprese anche positive quindi stiamoci attenti ragazzi io mi fermo qua non voglio aggiungere altro voglio vedere come chiuderà oggi perché comunque l'azione per me sta rimanendo molto bullish ovviamente il grafico ci ha dato ragione andremo a capire se questo supporto terrà se domani proveremo l'approdo oppure saremo un'altra giornata di lateralizzazione per provare a inizio settimana a rompere questi livelli noi ci aggiorniamo comunque domani ok lo sapete non vi abbandono quindi mi raccomando se questo contenuto vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace a iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati noi ci vediamo appunto domani io vi auguro tutti un buon sabato sera ciao ragazzi